Sindaco Pellegrino, oggi un giorno importante, Sassano con forza la riconferma Sindaco. Beh, veramente una bella risposta e ringrazio tutti i cittadini e tutta la gente, le famiglie di Sassano. Non solo per aver dato una grande risposta di amore e di orgoglio per il proprio paese, ma anche per l'affetto che mi ha dimostrato e che ha dimostrato a tutti quanti noi. Hanno premiato l'unità, hanno premiato un progetto che andava e che va nella direzione del contraria a quella nazionale dove troppo spesso c'è una politica che litiga, una politica che si contrappone, i partiti che si dividono. Qui invece abbiamo fatto il percorso inverso. Abbiamo unito un partito, abbiamo evitato i litigi che allontanano la gente dalla politica e abbiamo fatto prevalere il senso di responsabilità. Responsabilità per la nostra gente, responsabilità per il nostro territorio, responsabilità per la nostra comunità. Quindi vogliamo impegnarci a lavorare per continuare a creare cose positive per la nostra gente. D'altra parte ho detto anche un'altra cosa e sono contento anche dal risultato delle preferenze. I più votati sono stati i due assessori uscenti e questo Antonio D'Amato e Mario Trotta. Questo è un'analisi ulteriore che voglio fare, a dimostrazione del fatto che c'è un'amministrazione che ha lavorato bene. Io l'ho detto in più occasioni nei vari comizi, voglio che dobbiamo essere giudicati e dobbiamo essere anche votati non solo per le cose che diciamo ma per le cose che abbiamo fatto. E la gente ha premiato esattamente questo. Due assessori uscenti così premiati vuol dire che c'è stato un lavoro fatto bene, fatto in un determinato modo e questo ci fa capire anche un'altra cosa, che in politica la coerenza paga. Chi dal primo momento ha fatto delle scelte e ha mantenuto fede a quelle scelte è stato premiato dalla gente di Sassano. Chi invece ha fatto scelte ambigue, cioè un giorno di stare, un giorno da una parte, un giorno dall'altra, oggi non si vede nei banchi del Consiglio Comunale. Io sono veramente contento, ringrazio nuovamente tutti coloro che ci hanno dimostrato con il loro sostegno un grande amore per il paese. Il rischio era quello del commissariamento. I cittadini di Sassano hanno scelto di essere guidati da gente che vive nel nostro territorio e rispingendo con forza ogni possibile commissariamento per il nostro paese.